La provincia di Belluno e il Cadore in particolare piangono la scomparsa di Marenella Piazza, originaria di Valle, è stata in questi decenni un importante punto di riferimento per promuovere le tante istanze del territorio. Tra i fondatori del BARD, movimento autonomista della provincia di Belluno, si ricordano le sue battaglie a tutela della sanità in Cadore e il suo impegno a Calalzo nel giugno del 19, dove si trovava ad attendere il ritorno del treno dopo mesi di chiusura assieme alle massime autorità locali. Per lungo tempo è stata riferimento per l'Unione Laddina per la tutela delle tradizioni e della lingua. In questi ultimi anni si era tanto adoperata con diverse iniziative per la messa in sicurezza della chiesa di San Martino di Valle. Per i bambini della locale scuola aveva realizzato un orto a Pian de Val dove i piccoli studenti avevano imparato a coltivare tutte quelle piante che per secoli avevano costituito una fonte primaria di sostentamento delle passate generazioni. Nell'ultimo periodo Marinella aveva preso parte alla realizzazione del docufilm Trincee prodotto da Telebelluno. È stato grazie alla sua passione e competenza che è stato possibile realizzare le puntate dedicate alle portatrici e ai bambini di guerra. E proprio in seguito a questi documentari Marinella e Silvia Soravia sono riuscite a costituire il gruppo delle portatrici del Comelico che hanno poi partecipato a tante manifestazioni alpine come il raduno Triveneto a Belluno o i raduni sezionali in Cadore.